Quali sono le criptovalute più profittevoli per farti fare un per 20 in qualsiasi momento? Allora, in questo video voglio raccontarti che cosa sono le meme coin e anche quali sono le loro potenzialità, quali sono i loro rischi, cosa sta succedendo in questo momento storico nello specifico. E per iniziare questo video, a parte la sigla, voglio partire da un punto. Infatti voglio spiegarti proprio cosa sono le meme coin e voglio anche ricordarti il fatto che la formazione sia uno dei passi più importanti per capire e per poter fare dei profitti. Lascia prima che mi presenti. Sono Antonio Ereditario e da anni aiuto le persone a comprendere come l'economia 3.0 possa permettere a chiunque di lasciarsi per sempre alle spalle il proprio lavoro stressante e tradizionale e di conquistare così l'indipendenza finanziaria. Per questo ho fondato la Crypto Power Academy, un luogo di formazione elitaria ad accesso esclusivo dove abbiamo già accompagnato oltre 750 studenti da zero a macchine genera ricchezza digitale, sia passivamente grazie alla costruzione di un portafoglio diversificato che attivamente tradando derivati. Se credi che per te sia troppo difficile o addirittura impossibile, beh, semplicemente non conosci l'approccio semplice, diretto e pratico con il quale in prima persona ho ottenuto grandi risultati sfruttando i segreti della giungla delle monete digitali. Ed oltre ad essere un investitore digitale, sono anche uno youtuber, un content creator con un seguito che ha sfondato il muro dei 700.000 follower. Tant'è che negli ultimi anni sono stato invitato come speaker ai principali eventi crypto e blockchain italiani, come ad esempio il Blockchain Forum, il Web3 Digital Summit, il Crypto Expo Milano o mi avrei visto su RTL1025. Chiaramente guardando questo video potresti pensare che sono di parte, ma la cosa essenziale è che tutti noi, anche diciamo parte del team e tutte le persone che collaborano all'interno dell'Academy, continuano a formarsi quotidianamente e la formazione è uno dei punti fondamentali. È un punto fondamentale per chi vuole crescere personalmente, ma anche diciamo con una nuova professione. Ed è per questo motivo che molte persone magari vengono imbeccate sui social da profili davvero di dubbia provenienza e una volta aver perso quello che è il loro investimento di 1.000, 2.000, 3.000 euro, dato per lo più a degli sconosciuti, restano senza nulla. Motivo per il quale, visto che vuoi capire come monetizzare, e in questo video ci sei perché, vuoi capire come monetizzare con le meme coin, ti dico di investire. Se hai un budget di 1.000, 2.000 euro, quel budget di informazione è possibilmente farlo all'interno di CP Academy, che è appunto la prima scuola di monetizzazione con le criptovalute in Italia, che ha seguito già oltre 1.000 studenti, quindi iniziare sul serio a formarti, che è l'investimento migliore che tu possa fare in questo momento. Ora, Dogecoin e Shiba Inu sono tra le meme coin più conosciute tra le criptovalute. Diciamo, il fatto che Musk ha cambiato il logo su Twitter con l'immagine di Shiba Inu ha generato centinaia e centinaia di meme online, e penso che tu li abbia potuto anche vedere. E anche il fatto che in 12 mesi Shiba ha fatto un più 50 milioni per cento, non so neanche in che modo pronunciarlo precisamente. È un qualcosa davvero di assurdo, ed è facile capire perché le monete meme attirano la propria attenzione, e attirano anche gli investimenti, tanti tanti soldi. L'ultima moda delle meme coin poi si è espansa oltre il mondo dei cani, e si è stesa anche alle rane con PepeCoin, un token che prende il nome dal meme che troviamo su internet, Pepe The Frog. E poco dopo il suo lancio, una balena, ovvero uno di quegli investitori pesanti, ha superato il milione di dollari in Pepe, che ha ottenuto con un investimento iniziale di 0,2 ETH, circa 400 dollari. E questa storia ha davvero qualcosa di incredibile. Incredibile, così come la crescita esponenziale del valore di Pepe, di questa meme coin. Questo chiaramente attira nuovi investitori nel mondo cripto, che poi vanno a investire in queste meme coin. Ma ti voglio mettere allerta. Una volta che senti parlare di una storia come questa, probabilmente è troppo tardi, e magari hai pensato di saltare sul carrozzone dei vincitori troppo tardi, per ottenere dei profitti. Spesso, infatti, gli investimenti in meme coin perdono valore. Quindi la domanda che ti starei facendo in questo momento è come si fa a investire in modo sicuro in queste meme coin? Ora, prima di rispondere a questa domanda, lascia che ti dica come mai in Crypto Power Academy non le abbiamo mai trattate a fondo prima di questo momento. Il nostro obiettivo è semplice, è anche piuttosto preciso. Aiutarti a trasformare le criptovalute nel tuo lavoro e guadagnare. E per fare questo ti guidiamo nell'analisi e anche nel trading delle coin principali, quelle che hanno dei solidi progetti e un gran potenziale anche a lungo termine. Le meme coin invece si basano spesso su dei fenomeni virali e anche un hype momentaneo, che può portare a dei guadagni sì rapidi, ma altrettanto effimeri. Molte volte manca un'utilità, quella che può essere un'utilità concreta, una tecnologia solida e le rende degli investimenti altamente speculativi. In CP Academy non promuoviamo quelli che sono schemi piramidali, truffe, guadagno facile, ma la costruzione di competenze solide per muoversi nel mondo complesso delle criptovalute. Complesso ma altrettanto profittevole. Motivo per il quale il 24 giugno ho organizzato un evento live alle ore 21 italiane, dove andrei a scoprire alcuni strumenti inediti, anche delle strategie sconvolgenti, le definirei, che negli ultimi anni hanno stravolto il mondo delle cripto. Puoi trovare il link della registrazione qui sotto in descrizione, fallo adesso, riserva il tuo posto. Ma torniamo a noi. Voglio darti degli spunti di valore prima di arrivare al 24 giugno, chiaramente, e farti capire un po' quello di cui stiamo parlando. La domanda con la quale ci eravamo lasciati è come investire in modo sicuro in meme coin? Esistono delle metodologie che rivediamo spesso. Il primo punto è quello di capire quali sono le meme coin credibili e quali sono quelle false. Quindi qual è l'obiettivo del progetto in questione. Anche se magari il progetto non ha enfasi, non mette l'enfasi sulla sua utilità, perché come abbiamo visto negli scorsi video, tante volte un'utilità non c'è, è un buon segno quando la community del progetto, che lo sostiene, ha qualcosa in comune. Qualcosa in comune oltre al desiderio di generare dei profitti. Fai quindi attenzione quando l'unico obiettivo della community è quello di andare a pompare il valore della moneta, della meme coin, andando ad incoraggiare sempre nuovi investitori ad acquistare il token, nella speranza che possa salire il prezzo ulteriormente, e poi in quel caso andare a scaricare. E insomma, il resto viene un po' da sé. Il secondo punto è dare uno sguardo al curriculum del team. Lo so, non è semplice, molte volte sono anonimi, e infatti potrebbe capitarti che non trovi delle informazioni sui membri del team, perché magari vogliono rimanere anonimi. E già questo, insomma, non è proprio il massimo. Ma comunque quello che puoi fare è andare ad analizzare la tokenomics del progetto, e no, non è una brutta parola, ma quando parliamo di tokenomics, ci andiamo a riferire a quella che è la distribuzione del token o della memecoin all'interno del progetto in questione. Quindi il consiglio è quello di andare a diffidare di progetti in cui c'è tutto in mano a una singola persona, un singolo indirizzo che controlla una parte significativa di tutta quanta la distribuzione totale del token. Ora, qual è il problema? Che se la singola persona o il singolo indirizzo vende e scarica, allora il prezzo crolla, e tu magari hai investito e sei fregato. Quindi ti consiglio di scegliere una memecoin nella cui disponibilità non sia concentrata tra una manciata di investitori. Poi anche in questo caso ho un terzo punto, e questa è una questione un po' più specifica, ma altrettanto importante, e quindi cercherò di essere semplice. Sto dicendo di verificare quella che è la validità della pool di liquidità, e fa anche rima, e potrebbe sembrare un altro parolone. Il termine pool di liquidità si riferisce semplicemente a una raccolta di token che sono bloccati in uno smart contract, ovvero dei contratti intelligenti, che forniscono liquidità. Ora, andando dritto al sodo, chi fornisce la liquidità, in questo caso è il team del progetto, può ritirare la liquidità se non viene utilizzato un sistema di sicurezza adeguato. E quando si verificano questi, chiamiamoli incidenti, chi ha investito nel progetto si ritrova senza la possibilità di poter scambiare la propria moneta, la propria cripto, che in quel caso sta perdendo rapidamente il suo valore. Arrivati a questo punto, voglio darti anche qualche spunto su come andare ad investire in MemeCoin, e soprattutto di quello che tratteremo all'evento del 24 giugno. E su come uno dei trend di questo momento sia proprio come persone che vengono dal Terzo Mondo, dalla Nigeria, dall'Indonesia, comunque posti non che riguardano l'Occidente, stiano andando a monetizzare sfruttando dei trend proprio sulle MemeCoin. Ora, una volta che hai trovato una MemeCoin che pensi possa essere valida, la cosa da considerare qual è? Come andare a tradare, come investire correttamente questo tipo di asset? Ricordati sempre che la speculazione alimenta i prezzi delle MemeCoin. Per questo motivo è probabile che tu poi possa andare a fare i conti con una volatilità piuttosto alta. Ti ripresenta questo aspetto e ricorda di diversificare il tuo portafoglio, quindi di allocare una percentuale del tuo budget totale in base alla gestione del rischio. E trovi tanti video qui sul canale su come investire in criptovalute e sono delle regole fondamentali di partenza basilari che valgono per tutti. Sicuramente un'altra cosa che puoi fare è andare ad analizzare il sentimento, ovvero il sentimento sui social, sulle varie community. Quindi prendi il progetto, vatti a spulciare un po' i commenti e capisci un po' che aria tira e se ci sono commenti sui social, se c'è una community pronta a supportare il progetto. Insomma, cerca un po' di capire online quello che sta succedendo. Per ultimo, ma non ultimo, non andare in FOMO, quindi non farti prendere dall'eccitazione, dall'eccitamento, che dir si voglia, e andare ad investire magari quando tutti lo stanno facendo. Insomma, utilizza la testa, si irrazionale e cerca di avere una strategia. Arrivati a questo punto, ricordati poi di segnarti sul calendario la data e l'ora dell'evento, lunedì 24 giugno, ore 21 italiane, e di cliccare sul link che trovi qui sotto in descrizione di questo video per andarti a registrare gratuitamente. Ti dico questa cosa perché è fondamentale che tu partecipi a questo evento, perché in questo modo potrai essere tra i primi ad approfittare delle soluzioni innovative che questi cittadini del terzo mondo di cui ti stavo parlando utilizzano per fare dei profitti. Questi sono partiti, insomma, da poche centinaia di euro. Quindi, sì, sono partiti con pochi soldi e magari ti starei chiedendo cittadini del terzo mondo. Sì, in questi mesi, come ti stavo dicendo, si è sviluppato questo trend incredibile proprio su queste monete digitali esotiche. Tu sei avvantaggiato ed è per questo che quello che scoprirai partecipando all'evento ha per te un potenziale ancora più grande. Ma la cosa è che l'unico modo che hai per realizzare questo potenziale è sapere quali azioni devi andare a fare. Per questo il valore di questo evento sarà incredibile e ti andrò a consegnare la soluzione definitiva che passo dopo passo ti permetterà di sfruttare uno dei momenti storici migliori e dico migliori di sempre per il mercato delle criptovalute. In più andiamo a vedere quali errori vanno evitati andiamo ad approfondire quello che ci siamo detti in questo video ma soprattutto andiamo a vedere come fare i profitti che magari fino ad oggi hai solo sognato di poter fare. Infatti io e tutto quanto il team di C.P. Academy in questi anni abbiamo aiutato oltre mille studenti a dare una svolta alla loro situazione economica grazie a quello che è il mondo degli asset digitali delle criptovalute e ti dico la verità appena ci siamo resi conto che questa novità poteva essere utilizzata con ancora più successo da noi non abbiamo perso tempo e abbiamo creato questo evento. Questa è l'occasione migliore di sempre per utilizzare con successo tutte queste soluzioni e ti dico che ci siamo arrivati prima di tutti ma lo so la voce prima o poi arriverà anche al resto del mondo quindi renderanno queste informazioni di fatto meno efficaci. Ecco perché è fondamentale conoscerle e utilizzarle adesso prima che sia troppo tardi chiaramente perciò ancora una volta segnati sul calendario il giorno 24 giugno ore 21 ora ti saluto ci vediamo direttamente al prossimo video e come sempre to the moon grazie a tutti Grazie a tutti